Il Padura di Fucecchio è una zona che l'uomo ha da sempre abitato e che nei secoli, attraverso grandi interventi di bonifica, ha reso più adatta all'urbanizzazione. Un fenomeno grazie al quale è nato anche Ponte Bugianese, le cui tracce più antiche, proprio in virtù del periodo in cui quelle zone divennero abitabili, risalgono al XVI secolo. Periodo al quale risale anche il santuario della Madonna del Buon Consiglio, vero e proprio centro del paese, che nacque nel 1500 come piccolo oratorio e che nei secoli a venire venne ampiamente modificato fino ad assumere l'aspetto attuale. Un aspetto che in epoca recente è stato anche impreziosito dagli affreschi di Pietro Annigoni. Realizzati a partire dal 1967, ne hanno determinato il riconoscimento come chiesa monumentale di notevole interesse artistico. Un tempio attorno al quale lentamente è cresciuto il paese, incastonando al suo interno altri piccoli gioielli, come ad esempio l'ottocentesca cappella dedicata a Maria Immacolata.